Riperimetrazione del sito di interesse nazionale nella vasta area industriale di Gela. E' questo uno degli obiettivi principali perseguiti dall'amministrazione comunale guidata da Domenico Messinese. Si tratta di un passaggio fondamentale in tema di bonifiche, bonifiche cui progetti negli anni hanno viaggiato su e giù da Roma a Palermo per restare impolverati su qualche tavolo. Oggi il tema delle bonifiche è sentito e suscita profondo interesse da parte di tutte le forze sociali che chiedono a gran voce che vengano avviate. L'assessore a ramo Simone Siciliano. Questa è un'attività importante perché di fatti le aree sinne censite al ministero riguardano l'area a mare, 47 km quadrati di area a mare, e l'area all'interno della raffineria di Rage. Mentre erano state escluse dalle attività di perimetrazione tutte quelle attività che riguardano Enimed, cioè gli oleodotti, i pozzi e i centri oli. Stiamo parlando di attività importanti che si estendono su tutta la piana di Gela. Basta considerare che si parli di 80 pozzi, 60 km lineari di oleodotti e diversi centri oli. Ecco, questa attività per noi è partita già nel periodo estivo con una concertazione da parte dell'amministrazione, con la regione, il ministero ed Enimed affinché si arrivasse ad una cartina, ad una topografia di qual era l'area da riperimetrare. E' una cartina che noi poi abbiamo portato al ministero per chiedere di avviare con insistenza le attività per fare la riperimetrazione. All'interno di questa riperimetrazione c'è anche la verifica delle aree a mare. Chiaramente spieghiamo che tutte le aree che rientrano all'interno del perimetro dell'area SIN hanno dei vantaggi notevoli. I vantaggi sono legati al fatto che essendo siti di interesse nazionale godono di un'attenzione particolare per i processi di bonifica, o meglio godrebbero di interessi particolari. Sta di fatto che poi l'amministrazione deve rendersi parte attiva per accelerarli ed è quello che ha fatto questa amministrazione. Le aree che rimarranno escluse non saranno bonificate? No, in realtà non è quello. E' semplicemente il fatto che le aree escluse poi per essere bonificate hanno bisogno di risorse economiche. Queste risorse economiche se sono aree all'interno dell'area SIN ricadono in ambito statale e se non sono in area SIN ricadono in ambito regionale. Più vasta è quest'area, maggiori probabilità ci sono di bonificare con fondi statali. Esattamente.